Dopo le sue numerose relazioni con altri personaggi famosi Quindi Amedeo Preziosi, Spawn, Panetti, Rovazzi eccetera eccetera Kokeshi questa volta sembrerebbe essersi infatuata di Grimbaud Infatti erano già un po' di live che si scambiavano frecciatine al riguardo Se non che Grimbaud si è visto con Roberic Sembrerebbe in maniera molto probabile come abbiamo visto all'ultimo video Che ci siano anche andato a letto Kokeshi chiaramente ci ha voluto scherzare con lui riguardo questa cosa Mandando anche qualche frecciatina Non aggiungo altro, vi lascio filmati Noi ci vediamo un prossimo video in linea Novi si sono baciati, li ho visti Amiche amiche e poi ti rubano le... Non mi viene un'arima Le bigiche Comunque le fiche Non lo so, molto delusa dal comportamento di Roberta Nosker Non me ne frega nulla sinceramente Sono stati molto divertenti Sono contenta perché lei se l'ha cavata bene È difficile cavarsela bene con Simone È molto difficile Lei invece è stata brava Ha anche fatto vedere il suo lato migliore, ho visto Quindi sarete stati contenti, immagino Eccoci E' stato fatto vedere il suo lato migliore, ho visto che c'è la mia